Avito ma allora Mori funziona? Così mi pare poi che ne so a quanto va avanti non si sa Si ma come funziona? Funziona a 5 centesimi 10 centesimi Allora non funziona? Ogni tanto si blocca Ma come mannaggia qua è un problema ha telefonato pure Renzi No lo sa Allora stava a Wall Street per la presentazione della Ferrari e se vede qualcuno gli ha mandato un tweet o qualche cosa Ah oh Ha telefonato tutto un cazzato a spalletta mi hanno detto da lai Renzi One Renzi One Ma comunque non è venuto nessuno E pure questo è l'STS quel ragazzo che mette il cartello E che è venuto a fare se ancora funziona? A controllare E' l'unico che è venuto quando l'ho messo per dietro E vabbè ma se tu levi se levi il cartello ma la gente mette un euro e rimane fregata Ho capito ma Ho detto a lui se vuoi faccia subito un bietto e metti i 5 e i 10 centesimi no? Eh Perciò Quello è rientro a fare ieri Madonna ma con gli assaperenzi e allora che manca la telefonata Iese, iese non va bene manca la telefonata No perché non lo sai che è successo stamattina? Eh? A Villa d'Orlogna E' venuta a Befana E' andata E' andata a vedere se avevano piantumato i bossi a bordura dei bossi da luglio da luglio fecero una strombassata lo rimettiamo da qua da là a destra a sinistra non hanno messo niente Ma come? Io non so come si mettono Guarda io non so Fra l'etaps e come si chiama quello? Il senatore e Rotak A Storri Mamma mia Mamma mia mamma mia che figura che fanno sta giunta mamma mia tutto carbone tutto carbone carbone a carbone carbone a letaps a tutti a tutti i carbone